Signora polizia, signora, signora sono del comando, teste di cuoio, mi faccia entrare subito signora, abbiamo motivo di credere che una banda di malviventi si stia approfittando di taluni pensionati, lei oggi è stata al solito ufficio postale a ritirare la pensione? Si, si sono venuti anche due delinquenti anche qua, si Sia Caterina, non farvi vente in casa, cerca di liberarti più presto, quello che vuole fare tutti i castelli per tutta l'argenteria, Sia Caterina, allora mori, sentiti, 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 iemia! Grazie.